Perché intessiamo delle relazioni? I neuropsichiatri sostengono che siamo inclini a instaurare dei rapporti profondi. Abbiamo bisogno d'amore. La realtà è che di solito finiamo col cuore spezzato. E questo lascia delle ferite nella nostra fragile psiche quando non la distrugge. Allora perché continuiamo ad esporci a questi rischi? Immagino sia per trovare la persona giusta. E quando questo accade, ce ne accorgiamo. Persino il ricordo di una relazione appagante basta a sostenerci. E a ricordarci che, anche se in quel preciso istante siamo tristi e abiliti, non siamo mai completamente soli. E a ricordarci che, anche se in quel preciso istante siamo tristi e abiliti,